Ragazzi, con me non c'è problema! Venite a telefonare! No, guarda! Ti sembra normale! Ma regà, ma è una truffa! Ma che sta da fare? Ragazzi, ma fate sul serio! Ma vi state guardando un attimo? Siete qua tutti insieme, sembra che siete da soli e dovete per forza telefonare! Ma volete finire? Cercate di ricomunicare guardandomi in faccia! Tra l'altro è pure gratis! O no, Gino? Che poi è una questione di prospettiva! Chi l'ha detto che non c'è campo? Forza, venite qua! No, no, non so giocare! Ma neanche loro sanno giocare! In questo video – A alla, la, la. Pa, 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 paci! Pa, 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 pa! Pa, 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 paà! Pa, pa, pa! Pa! Grazie a tutti.